Poco fa ho dato la buonanotte in diretta su Rai So Radio, per coloro che non hanno sentito approfitto anche di questa buonanotte, anche perché per un po' di tempo non mi sentirete. Per quanto riguarda il giorno di venerdì, non sono in onda, anche se vado a lavorare, ma non sono in onda. Sabato e domenica sono di riposo, ma domenica sera tornerò, perché ci sarà la notte tra domenica e lunedì, lunedì sera mi sentirete con Nota la Nota e la notte tra lunedì e martedì saremo in diretta insieme. Quindi insomma approfitto per augurarvi un buon weekend e intanto buonanotte, ciao!